Ognone di grazia del figlio, signora dei matti di terra, in mezzo a la terra non c'era, e la testa in francia del figlio, e il gloria del sangri tuo figlio, su a te si prostrate, e il gloria del sangri tuo figlio, su a te si prostrate, e il gloria del sangri tuo figlio, 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 Grazie. 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 Creda in me, Dio, un cuore tuo, rinnova in me uno spirito salvo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Ricordati che il Signore è il tuo cuore. Signore, Padre che mi abba, e la mia poca proclami la tua notte, uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non ti sprezzi. Ricordati che il Signore è il tuo cuore. Dalla prima lettera di San Paolo, lo scuola di un uomo. Figlio Dio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha dedicato che mi infigia, mettendo al suo servizio mio, che prima, che prima era un esternatore, un persecutore e un mio aiuto. Ma mi è stato usato a misericordia, perché agivo per l'ignoranza, lontano dalla fede. E così, la grazia del Signore nostro ha solo la donna che insiede a me e alla carità, che è Cristo Gesù. Questa parabolare è degna di me e di essere a ricorda da tutti. Cristo Gesù, che è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo di cui sono il mio. Ma apposito, per questo, ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha avuto in me, per primo, dimostrare tutta parte la sua banalità. E lo foste di sempre, a tutti, che avrebbero creduto in lui, per la vita eterna. A me dei secoli incontibili, inesibili, 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 con l'onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. A me dei secoli incontri, inesibili, 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 inesibili. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconcigliazione. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Grazie a tutti. La misericordia, umanamente, è questo rapporto tra persone per cui una persona è misericordia, c'è una povertà e un divano incontro per sofferire la sua povertà. La misericordia è un atteggiamento umano, però per i cristiani questo atteggiamento è la pregolatina di Dio. Dio è misericordia. Per questo i cristiani si usano misericordia tra di loro, perché Dio stesso è misericordioso. E Dio è diventato misericordioso, perché lui è assolutamente giusto. Però, siccome gli uomini e gli uomini hanno scelto di vivere il peccato, di vivere la sofferenza e la morte, perché la morte e la sofferenza sono scelte dell'uomo, perché con il peccato nel mondo entra ogni umano, e quindi la morte e la sofferenza, quindi con questa scelta volontaria del peccato, quindi delle conseguenze del peccato, sono diventate misericordia, sono diventate povere. E Dio, proprio che la sua asso, la giustizia, si fa misericordia per sofferenire la vostra povertà morale, per le attività spirituale, soprattutto i raggi, dal mare dell'eccellenza, che si chiama peccato, perché la fame, la morte, l'unità, anche le cose più terribili di questo mondo, pensate un po', solo buca cosa, in confronto all'umano e all'eccellenza, che si chiama peccato. Il vero terremoto ha diventato una ceppia per una persona, proprio questo, il vivero del peccato. Questa è la più grande sofferenza, e invece invece siamo tutte contrate, tutte contrate. E allora, Dio si fa misericordia, che parla del suo figlio Gesù, e viene incontro a noi, perché ascoltando Gesù, noi possiamo recuperare tutto quello che ci dà, dal punto di vista materiale, guarantissima, dell'anima e del corpo. Qualcuno vuol dire che Gesù ci deve mangiare, certo, sì, Gesù ti dà mangiare. Che significa che Gesù ti dà mangiare per il libro, capiti? Significa che si dà questo, che è la condizionanza di Dio mangiare a noi, se crediamo in Dio. Ma poi si dà una cosa, che se le persone, gli uomini e gli uomini, le società, gli stati, ascoltassero veramente la paura di Dio, non ci sarebbe nel mondo più fana, più unità, più male. Ma questo mondo deve sempre prendere, deve sempre sapere una cosa, che fino a via del mondo, il male, la loro, le sofferenze, ci stavano sempre. Ci stavano sempre. Noi non chiedono, possiamo eliminare tanto, 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 sentire le patiche, la parola di Massey, ci stavano. Ma tutto questo. Solamente, con l'aiuto di Dio, noi possiamo superare anche i padri al meglio. Oggi nel mondo ci sono tante strutture di peccato, tante situazioni poco cambiate così, dalla società dei uomini e delle azioni di cui il posto non lo scontriamo. Che hanno, il posto non lo scontriamo, perché c'è l'ottimo. Ma dentro di oggi, si fanno calciare la guerra, si fanno le qualizioni e la raccoggio alle persone e gli amministrati. Cos'è, se cos'è, per lo scontriamo a me, nella scuola, ma se non strutture di peccato. Ma se noi invece scontriamo la vita di Gesù, lo scontriamo un uomo, una famigliore. Anarmi, potrebbe essere più lavoro, più giustizia, più pace, più progresso. Questo da un strutture materiale, che è fondamentale da noi per la nostra. Il cui dà la propria vita spirituale, il nostro cuore, il Deato, il Deato, il Deato. Quindi si pericina la misericordia, per il Deato, e renderci per il Deato. E renderci per il Deato. Quindi la misericordia significa che, Signore è buono, allora io devo sempre di perdere il Deato. Non devo mai lottare a costruire un uomo di Dove, non devo mai lottare per essere io di Dove, per complicare più, per essere più buono. Per essere più buono. Questo è tutto. E' la vera deresia della misericordia, per cui pensiamo che Dio è il cuore. Poi c'è anche il Papa Francesco che c'è il cuore. Quindi abbiamo il Papa Cuore. Come se gli altri operativi. No. Abbiamo il Papa Cuore e abbiamo la sua propria. Tutti i buoni, ammelo a tutti. L'inferno non esiste, il Bocatore non esiste. Tutti i buoni, tutti i santi, si mettono su una nuova, tutti, tutti, si mettono tutti qua. Come si è assietto, non è uguale. E' vero che io sono inoccupato di andare bene, non è uguale bene. Però io siete iniziati. Dovevo cambiare. Anzi, quando ho fatto un processo, è l'effetto principale della misericordia dei nuovi, è proprio questo dinamismo per cui, per donarti, siamo in grado di non peccarti. E se chiamolo, ritorniamo alla fonte. Non il proprio possibile, non peccarti. Con il proprio posto, e addirittura, di perdonare la vita. Perché si stanno stati perdonati a Dio. E si ha perdonato da Dio. Perché tutti i mercati sono offesi, gravissimo a Sino. E in realtà, è proprio un po' dedicato anche l'affermazione eterna. E non ci sarebbe già salvati. E' un misericordio. E allora, se siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare. sapendo che poi il Signore ci dirà, Dio, ti ho perdonato. Dio, che cosa hai fatto? Io ti ho perdonato tanto, 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 tanto. Tu devi far perdonare qualche spiccioletto. Forse è quello che ti ha fatto da, o che ti ha fatto da, o che ti ha fatto da qualche cosa, o che ti ha fatto da un dato, o che ti ha fatto da così. Sono piccine di, e io devo essere felice. Io, volevo dire, tu. Non mi darei una domanda di essere qua della faccia. Cazzo, mi sono come gli ha detto, sputato in faccia. No, no. Non diciamo come gli ha detto, vuoi sputare la parte, vuoi sputare con noccia. Tutti e pure hanno fatto, eh? Eh? E' una domanda di questa cosa. Lo ha diciamo, lo ha diciamo. E' pure il Signore, che? Avremo i diritti di fare questo, perché è il Signore, quello. Gesù è il Signore, lo lo faremo. Lo lo faremo tutti. Invece, no, di farlo, si chiede, perdone, accoglie, va oltre la mente, oltre ad essere il Signore, Gesù è la mente, un Signore. La differenza è che la nostra, che siccome abbiamo ancora fatto la differenza bene, positiva dell'amore di Dio, ci arriviamo alle dita, tutte le cose, poche cose, sembreranno un po', dobbiamo essere un po' come, non so, un po' così, un po' come un'ugna, per esempio, di gano, di gano, di gano, di gano. Questi legami, quando c'è un legame dito, siccome dito, ha bisogno, come dire, di ispirare l'inità, ma se c'è un legame dito, il dito soffre. Quindi dobbiamo sciogliere questi legami, che tra le volte abbiamo una di noi. Più sciogliamo questi legami, più lo scegliamo di una notte, di un camionale, di una notte, di una notte, di una notte, perché se, come si può dire, non lo posso dire da una notte, perché non si dice, se tu sei sempre la personale, la cosa che posso dire, ti sponfocchi. Quindi non bisogna passare, bisogna avere volte. Se trova io e non è, e uno sta sempre, non so, a dire, io faccio così, faccio molire, faccio molare, non direi, non è così. Ma, cosa che faccio? 25 anni insieme, se non dovreste dire, dovreste dire, ma non è ancora quanto possibile, non dovreste salutare, e poi avendo una buona, la vostra scappa, è venuta la dà, e poi, che so, e... Io mi aspettavo i passaggi, e ci sono avuto un'attore in cicci. E che ne avevo fatto? E pazienza, pazienza, un'attore, un'attore. E poi, fuori, si sapeva ricordare che quel giorno ero trovato un'attore in cicci, e non aveva sempre. E diventa un'attore. Siamo scherzati, quello che è un inferno. Siamo scherzati. E fanno fuori delle possibilità di vita. In famiglia, sul condominio, delle comunità, delle marocchie, delle società, degli stati. E' proprio la misericordia della morte tra le persone. Chi di loro è il perfetto? Chi di loro è il perfetto? Gesù Dio è il Santo. Possiamo diventare il Santo. Noi siamo, noi siamo perfetti. Noi siamo perfetti di Dio. Ci andiamo verso la perfezione. Se lo vogliamo, eh? Con il Dio di Dio. E questo è il nostro programma. Questo è il nostro programma. E' veramente riempire al Signore. E' veramente riempire al Signore. E' veramente riempire alla confessione della comunione. Che ci aiuti. A riempire a crescere nell'amore. E qui c'è un altro modello. Un modello di vita. Un modello di vita. La vita. Oggi iniziamo. E' proprio la festa. La Dora dei Martiri. La Dora dei Martiri. La Dora della pratica. Delle 12 stelle. E' veramente diventata lei. Una Della stella. Che in un momento. In un momento dove. Veramente ci sono tanti. Che pensano di essere le stelle. Ma in realtà sono le stelle. Sono le stelle. E' un po' calenti. E' veramente la stella. Che vive in Milano. La nostra vita. E' una Dora della vita. Perché? Lei ha sempre donato il Dere. Che ha ricevuto il nostro figlio. L'ha donato. Il nostro figlio. Buona notte. Buona notte. Continuamente. Lì. Il nostro soccorso. Continuamente. Il nostro soccorso. Il nostro soccorso. La Dora. La Dora Maria. Oggi. La vogliamo veramente invocare. La vogliamo veramente di Settina. In questo anno santo. Perché lei si fatta. E' veramente. In maniera. Cagliosa. Le sue grazie. E' su tutti. Quello che potremmo vivere. Per questi anni. Molto quasi male. Prendiamo con le famiglie. Ogni pregare. Una sagittura. Per la zainto. Per i miei. Per i loro figli. E oggi sono venuti qui. Per dire grazie. Al Signore. Per 25 anni di insieme. E' una cosa più bella. di un'universale molto, perché questo anniversale sarà un'indicata di cosa? Che è possibile volersi bene, che è possibile lavorare per tutta la vita però oggi, mentre loro, tutte le famiglie rinnovano le loro promesse sicuramente mentre rinnovano la loro promessa di dignità rinnovano anche le promesse di misericordia sapete, crescendo con l'età l'amore aumenta aumenta sempre è possibile però sapete cosa succede? poi aumentano i lacciati aumentano il proprio muso e allora se erano giovani magari mi piace il pelle gli occhi i capelli non so il modo di camminare poi queste cose le coroziono le bellose tutte le corozioni rimane da buono e proprio in quelle piccole in qualche grado di vita che si dimostra l'amore sui violenti con i piccoli contatti così con me con l'ottima e sicuramente diciamo come oggi si dice con la grazia di Cristo proverebbe di essere di fedele come la grazia di Cristo proverebbe di essere fedele a un altro non usare più oltre fedele la fedelità non è più valore peccato per questo per questo abbiamo avuto tanta confusione nella gioia nel dolore nella salute e nella pratica anzi e proprio quando si vede vivono queste cose che non solo come diventa la famiglia diventa quindi tu ti rendi conto che non c'è di loro più grande nella tua vita che nella tua famiglia la famiglia da cui tu sei venuto è la famiglia che tu hai trovato è un c'è di loro più grande secondo il progetto di Dio non sono famiglie dove in modo contemporaneo non sono famiglie che non non sono famiglie ma non sono famiglie ma non sono famiglie dove da lui mi sono venuti adesso si è venuto adesso si è venuto papà mamma che si sono sposati con il mio sinistro del mio sinistro che si sono diventati figli e poi ecco la ripresione diventata semplici qualche volta lo sguardo un punto una carriera una carriera una carriera una carriera e poi inizia avanti queste sono cose che formano le persone che poi loro non siamo capaci di costruire un po' di più bene chi è la tua donna oggi di noi qui presenti la nostra parrocchia di tutte le famiglie di questa famiglia di vendere tutta la cipolla di offerta perché la loro vengono dei nati afforati ad esempio lei ad esempio l'assunta ad esempio continui a guardarci con i suoi occhi disegno di usi e con i nostri cuori la pace e la forza di seguire Gesù tutto il cuore credo che il suo Dio padre non è come la voglia del cielo e della terra di tutte le cose che si 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 e di si credo che il suo suo messo che sono un'igiene con il Dio di Dio nato dal Padre prima di un secolo di un Dio di un Dio che si è annunci per il Dio che è la rata e la rata è la rata cheogra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.